Salve a tutti, sono Gianfranco Marini, benvenuti alla bottega didattica per il fai da te con le tecnologie dell'apprendimento e della conoscenza. Vorrei presentarvi WebJet, un'applicazione che trovo estremamente utile, soprattutto come strumento per orientarci in quello che ormai è l'oceano sconfinato di informazioni del web. L'obiettivo di WebJet è infatti quello di consentirci di organizzare in modo rapido e semplice i contenuti, le informazioni, le risorse nelle quali ci imbattiamo durante la navigazione e che spesso sono estremamente dispersive e difficili da gestire. Il problema è quello del sovraccarico informativo che è anche un sovraccarico cognitivo, cioè una difficoltà di ricondurre tutte queste informazioni a quelle che sono le nostre esigenze, anche perché il web è un ambiente aperto, inclusivo, dove troviamo tutto il contrario di tutto, dove non c'è discriminazione tra ciò che è attendibile e ciò che non lo è, dove non ci sono percorsi predefiniti, ma i flussi di informazione cambiano continuamente, sono destrutturati, non organizzati secondo un sistema compiuto, universale, di categorie, insomma secondo un sistema di classificazione che ci permetterebbe di orientarci e quindi abbiamo bisogno di questi strumenti, da sempre e da subito è stato così. Si pensi ai bookmark, segnalibri o come li vogliamo chiamare, che erano uno strumento indispensabile, ma oggi ampiamente insufficiente. Bene, gli autori di Webjet ritengono di ispirarsi a un nuovo paradigma, quasi filosofia, di navigazione e di gestione delle informazioni, soprattutto per quanto riguarda l'interfaccia che ha un alto grado di usabilità, che è molto semplice. Lo scopo, come dicevamo, è quello di strutturare il caos, di dare un ordine al caos. Naturalmente non esiste l'ordine, ma un ordine ad hoc, cioè basato su quelle che sono le circostanze del momento, il nostro interesse del momento, le nostre esigenze del momento. E fare questo attraverso un pensiero visuale, cioè non come i tradizionali strumenti di bookmarking, che sono testuali, quindi io prendo un link, lo inserisco tra i miei bookmarks, segnalibri, eccetera, e apparirà come un testo cliccabile, ma secondo una forma di pensiero visivo, dicevamo. Questa per esempio è una board realizzata con Webjet sul rock, e come vedete abbiamo un pensiero di tipo, un pensiero, chiedo scusa, abbiamo dei segnalibri di tipo visuale, se io li apro, qui sono organizzati in questa lista, sono dei video, e abbiamo non un segnalibro testuale, ma le immagini del video, così la stessa cosa vale per gli articoli, questo è un articolo testuale, una pagina di focus, e vedete che abbiamo un'immagine e abbiamo anche una breve descrizione, che viene automaticamente prelevata quando noi inseriamo il link di questa pagina nella nostra lista. Non solo pensiero visivo, ma altra dimensione fondamentale è quella dell'intelligenza collettiva, di cui già parlava Pierre Lévy, che è necessaria per affrontare l'enorme flusso di informazioni, che sovrastrebbe chiunque, e quindi richiede una collaborazione tra le intelligenze, in cui ciascuno contribuisca secondo le sue capacità, competenze, abilità, eccetera. Abbiamo già detto che si tratta quindi di una piattaforma in versione beta, per ora gratuita, a cui ci si può registrare, come si fa sempre, con la propria mail e una password, che permette di creare raccolte e di navigare rapidamente, perché una volta che abbiamo prelevato tutto ciò che ci interessa su un certo argomento, per un certo lavoro che stiamo portando avanti, per esempio una lezione, possiamo navigare tra le varie risorse individuate e selezionate, e raccolte tutte in un unico spazio, senza più ammattire con decine e decine di schede del nostro browser. Possiamo inoltre organizzare queste informazioni in modo semplice, ma anche molto articolato ed estremamente strutturato, possiamo creare annotazioni come questa, card, dove possiamo inserire del testo, oppure possiamo creare liste, come per esempio questa, dove inserire dei link, possiamo creare board, come per esempio questa, dove abbiamo inserito, dove ho inserito delle canzoni di David Bowie, possiamo creare delle mappe, come questa, io adesso ho salvato semplicemente copiandoli, incollandoli questi tre link, che sono link visuali, vedete, adesso creo con questo pulsante una mappa, inserisco qui dentro questi link, uno, due e tre, proviamo ad allargare questa finestra, vedete che come posiziono il cursore del mouse, compaiono queste maniglie, che mi permettono di collegare, secondo le relazioni che voglio, i vari link, e di conservare le relazioni che ho realizzato. posso anche creare strutture più complesse, riduciamo tutto quanto, in modo da ripulire un po' l'area, e inseriamo per esempio una tabella, questa è la tabella, vedete, si vedono in trasparenza le colonne e le righe, c'è una barra di scorrimento, la tabella è vuota, e posso riempirla, per esempio, con i vari elementi che ho già salvato, in modo da realizzare una struttura più complessa, guardate cosa viene fuori, ecco qua, adesso io allargo, e apro tutti gli elementi che ho inserito nella tabella, vedete che abbiamo una struttura complessa, in cui ho riunito tantissimi elementi, se questa tabella mi interessa, e la voglio conservare, chiudo, e la trascino magari qui, e vedete, table, non ha nome, glielo posso dare, diamo un nome a qualsiasi, e la posso aprire, come in questo caso, vedete, questa è la mia tabella, e in effetti, dentro una tabella posso mettere un'altra tabella, e quindi strutturare le informazioni, in modo sempre più articolato, in insiemi, sotto insiemi, sotto sotto insiemi, e così via, e in modo da mantenere sempre un certo ordine. Naturalmente, è la cosa interessante, che mentre io lavoro, in questo caso, alla borda, alla lavagna, insomma, contemporaneamente, ci possono lavorare anche delle altre persone, e i cambiamenti saranno sincronizzati, quindi io vedrò cosa fanno loro, e loro vedranno quello che faccio io. Inoltre, non è solo uno strumento per archiviare, ma è anche uno strumento per gestire, come dire, i flussi informativi, cioè io posso gestire, per esempio, un'attività, fissando degli obiettivi, fissando una lista delle cose da fare, delle cose già fatte, delle cose parzialmente fatte, per esempio. Inoltre, è il tutto integrato, con strumenti quali Google Drive, io adesso ho copiato un link di un documento di Google Drive, lo incollo con CTRL V, e vedete, questo è il documento di Google Drive, lo spostiamo, lo mettiamo al centro, non ci riesco, e vedete che il documento è perfettamente funzionante, io posso scrivere, posso modificare il fonte, insomma, posso lavorare come se fossi in Google Drive, sono in Google Drive, che è incorporato, in questo caso, adesso lo rimuovo, e abbiamo anche visto com'è interessante questa funzione. Una volta registrati su Webjet, qui appunto, per registrarsi, la versione beta, qui per effettuare il login, avremo la nostra area di lavoro, come inseriamo i vari elementi, abbiamo già visto come inserire una card, basta cliccare qui, come inserire una lista, clicco, e vedete, compare la lista, posso trascinare dove voglio, posso ovviamente ingrandire, e qui dovrò trascinare i link che mi interessano, per esempio, dovrò realizzare la lista dei Pink Floyd, naturalmente, non può mancare, magari scriverli giusto, ecco, così, scriverli bene, e io mi procuro i link, e poi lo trascino qui, e vedete, compare il link, posso aprirlo, e chiuderlo, e così via, cercherò altri video, e quindi, come questo, ripeto, io ho due schermi, è molto comodo, quindi trascino, vedete, e poi lo posiziono qui, e qui, avremo quindi, un altro video dei Pink Floyd, eccetera, eccetera, adesso chiudiamo, e allo stesso modo, posso realizzare una board, darle un titolo, e inserire tutti i link che mi interessano, otterrò, una cosa del genere, vedete, questa, lì con la si capisce, è una board, e poi la posso anche spostare qui, in modo da averla nel mio indice, a sinistra, di tutte le mie risorse, e così via, ogni singolo elemento, questa è un'immagine, per esempio, che è semplicemente trascinato, dopo averla trovata, può essere bloccato, sbloccato, duplicato, condiviso singolarmente, e pubblicato singolarmente, naturalmente, io posso poi agire, sull'intera board, in questo caso, e pubblicare, ecco la mia è pubblicata, basta cliccare qui, è pubblicata questo indirizzo, posso cambiare il colore, e posso ancora, avere delle informazioni, create a 3 marzo, e aggiornata il 4, posso anche condividerla, per condividerla, clicco su share, e come vedete, io sono il proprietario, e qui inserirò, l'indirizzo, o mail, dei miei collaboratori, per esempio, di un gruppo di studenti, e posso anche, ingrandisco un po', selezionare, il tipo di attività, che gli consento, di effettuare, le prerogative, può editare, e quindi modificare la bacheca, può semplicemente, limitarsi, a guardare, qui ho un altro indice, qui ovviamente, abbiamo, il mio account, il mio nome, posso modificare, la mail, la password, eccetera, eccetera, i setting, insomma, la configurazione, qui abbiamo, dei tasti, veloci, qui abbiamo invece, la cronologia, insomma, tutte le operazioni, che ho effettuato, in modo da poter tornare indietro, andare avanti, gli elementi cancellati, eccetera, messaggi, e qui abbiamo, elementi, che io posso, depositare in quest'area, provvisoriamente, se per esempio, non so, io vado su music, vediamo, cosa c'è su music, in cui è vuoto, andiamo da un'altra parte, ecco, questo elemento, lo posso mettere in quest'area, con la stella, poi ritorno su rock, riapro quest'area, di parcheggio, e lo inserisco, lo inserisco qui, adesso, inseriamo qui anche, di purple, eccetera, vediamo, che ho Dylan, vedete, posso aprire, chiudere, i vari elementi, posso anche, ascoltare qui, il video, oppure, su YouTube, questi sono, altri elementi, vedete, cliccando, si apre focus, eccetera, queste sono le principali, operazioni, che posso fare, abbiamo già visto, come si pubblica, una, una bacheca, una board, in questo caso, mi sembra, uno strumento, molto efficace, bisogna fare un po' di pratica, ma insomma, le operazioni, sono abbastanza semplici, posso fare anche altre cose, per esempio, cliccando su YouTube, si apre questa casella, di ricerca, posso cercare direttamente, i di purple, su YouTube, per esempio, e mi compariranno, vedete, dei risultati, io posso decidere, di inserirli, nella lista, questa, che ho dedicato, ai di purple, oppure, posso fare la stessa operazione, con Wikipedia, e quindi cercare, Wikipedia, e cercare, su Wikipedia, direttamente qui, bene, sono riuscito ad arrivare, a 13 minuti, e 16 secondi, può essere, uno strumento interessante, bisogna provarlo, a me sembra, abbastanza, abbastanza utile, lo sperimenterò, dato che l'ho appena scoperto, e proverò anche, a far utilizzare, i miei studenti, vi ringrazio, e buona serata.